Il nuovo motore e il cambio a 6 rapporti permettono alla nuova Ibiza Cupra di accelerare in soli 6,7 secondi e raggiungere una velocità massima di 235 km orari. Il marchio Cupra non garantisce solo ottime prestazioni. Il massimo piacere di guida è assicurato grazie al differenziale autobloccante elettronico XDS, impianto frenante altamente prestazionale, sospensioni e risposta dello sterzo regolabili e specialmente grazie al sistema Cupra Drive Profile che permette di definire e regolare le sospensioni in funzione delle necessità, da una guida molto confortevole alla massima esperienza di guida sportiva.